Fondi regionali per il Cargiver, un servizio al quale la regione Abruzzo sta lavorando da tempo per poter offrire sostegno a quelle famiglie che devono assistere un familiare affetto da patologie rare e che necessita di assistenza 24 ore su 24. A farsi promotore dell'iniziativa Andrea Sciarretta, il papà della piccola Noemi, affetta da SMA1. Gli obiettivi di oggi sono lo sblocco immediato dei fondi del Cargiver inerente al 2015 in quanto ancora sono erogati, in più di inserire nel bilancio 2016 comunque un capitolo di spesa che vada per il bando 2016. Noi ce la mettiamo tutta per dare un contributo concreto anche a una legge regionale per il Cargiver in quanto noi siamo, io personalmente, un Cargiver familiare e in più rappresentiamo notevoli numeri di Cargiver familiari. Quindi ci auguriamo che con la regione possiamo anche andare oltre e dare la giusta attenzione e concretezza alle famiglie che assistono ai disabili gravissimi. Fondi regionali messi a disposizione per formare personale specializzato. Si tratta infatti di patologie spesso poco conosciute e che necessitano di competenze specifiche e fondi anche per la struttura che dovrà ospitare i pazienti in fase cronica. Avevamo già in qualche modo impegnato la regione Abruzzo in un precedente confronto che all'atto e al momento della predisposizione del PEG come è avvenuto nel 29 di gennaio ci sarebbe poi stato un ulteriore ragionamento tra il sociale e la sanità. Abbiamo approvato il documento base, abbiamo 30 giorni per fare le variazioni che sono state già in qualche modo ragionate e sulle quali già si è avviato un confronto nel recente passato. Si parla di formazione di personale specializzato? Anche questo perché dicevamo aumentare sia la quantità dell'assistenza ma in questo caso anche la qualità dell'assistenza e la qualità chiaramente passa anche per la formazione del professionale e del personale. Abbiamo messo un 200.000 euro facendo un avviso e ne abbiamo aggiudicate 100 appunto riuscendo a dare una risposta a tutte le famiglie che avevano le caratteristiche dell'avviso. Quest'anno faremo la stessa cosa, nel regolamento metteremo la possibilità di dare un contributo proprio alle famiglie di minori con malattie rare.